Sono state diffuse notizie imprecise sull'alga trovata nei giorni scorsi nel tratto di mare tra Silvi e Pineto. L'Arta Abruzzo, agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, ha ritenuto di dover innanzitutto precisare che il nome scientifico dell'organismo è Noctiluca Shintillans e si tratta di una dinoficea eterotrofa. I campioni sono stati prelevati martedì scorso, 17 febbraio, dal personale della Guardia Costiera di Silvi nella zona antistante il villaggio del Fanciullo e le analisi di laboratorio sono state effettuate ieri dai tecnici del settore biotossicologico del Dipartimento Provinciale Arta di Pescara. Gli esiti sono stati inviati al Dipartimento Provinciale di Teramo e alla Guardia Costiera di Silvi. La Noctiluca Shintillans non produce tossine, la fioritura provoca colorazione rossa dell'acqua con diminuzione della visibilità ed eventualmente moria di pesci a causa delle conseguenti condizioni di ipossia, ossia la scarsità o mancanza di ossigeno. Grazie. Grazie.